Sono tantissime, non possiamo permettere questo. Noi possiamo dire invece che il Comune possa requisire giustamente questo bene e possa salvaguardare i posti di lavoro e dare anche altri posti di lavoro perché c'è tanto da fare in questa nostra periferia. I punti di equalità dovevano essere delle risorse che stanno sul territorio.